Buongiorno a tutti, sono uno studente di quarta del liceo classico Stellini e in occasione del Dante Dì ho preparato per voi una serie di terzine che mi sono piaciute e ve le spiegherò. Ma come mai il Dante Dì si festeggia proprio il 25 marzo? Allora, il Dante Dì ha solamente un anno, l'ultima celebrazione del Dante Dì è avvenuta il 25 marzo 2020 Ma perché proprio il 25 marzo? Vi chiederete? Gli studiosi dicono che è il giorno in cui è iniziato il viaggio oltraterreno di Dante Infatti la Divina Commedia inizia per consuetudine in questa data Perché esattamente in questo giorno, ovvero il 25 marzo, Dante inizia la sua discesa all'inferno Che cosa rappresenta per noi il Dante Dì? Allora, il Dante Dì è un giorno importantissimo per noi italiani Ma non solo, perché Dante è conosciuto in tutto il mondo Quindi il Dante Dì è importante anche per altri paesi A cosa serve? Serve a ricordare la grandezza e l'importanza di questo importantissimo personaggio Che ha posto le basi per l'italiano moderno E ci ha regalato una bellissima opera senza tempo, la Divina Commedia Tant'è che viene tuttora letta e studiata nelle scuole La figura di Dante è talmente importante per la nostra cultura, la nostra società Che è stato addirittura scelto come uomo dell'anno nel 2021 Anche nonostante a sette secoli dalla sua morte Allora, ecco a voi la terzina che ho scelto per voi E che mi è piaciuta molto È l'invettiva all'Italia Nel Purgatorio ai versi 76-78 E fa così La parafrasi di questa bellissima terzina è Ai serva d'Italia Ricettacolo di dolore Cioè luogo di dolore Nave senza timoniere in una grande tempesta Non signora di popoli Ma luogo di corruzione E allora, in questa terzina Dante È molto arrabbiato con l'Italia Intesa come territorio e nazione A causa delle sue condizioni attuali misere Che sono state provocate dagli imperatori e dalla chiesa Perciò la sua indettiva è diretta Direttamente agli imperatori Che hanno causato questa situazione in Italia Questa è la seconda terzina che ho scelto Si trova sempre nel Purgatorio Nel quattordicesimo canto Sono i versi 109-11 E fa così Le donne, cavalier Li affanni e li agi Che ne invogliava amore e cortesia Laddove i cuor Sono fatti sì malvagi Questo significa Le donne e i cavalieri Le pericolose imprese E riposi di cui l'amore E la cortesia suscitavano il desiderio Mentre ora i cuori sono malvagi Questa terzina è importantissima In quanto rievoca i valori delle virtù cavalleresche Della liberalità, della cortesia Del valore della guerra Dove le donne e i cavalieri Si dedicavano ad affanni e adagi Questi temi furono ripresi Pensate 200 anni dopo Dall'Odovico Ariosto Che decise di iniziare la sua opera più grande L'Orlando Furioso Proprio con questi temi Infatti il proemio dell'Orlando Furioso Inizia così Le donne e i cavalieri L'arme e gli amori Le cortesie L'audaci imprese Io canto Quindi vedete Tutto è collegato Perché ho scelto Proprio queste terzine? Allora Ho scelto queste due terzine Oltre per il fatto che Sono molto belle Mi sono piaciute Anche perché Descrivono appieno Allo stile di Dante Da un lato Utilizza un linguaggio di stile basso Utilizzando anche parolacce Come nell'invettiva l'Italia Dall'altro lato È in grado di essere raffinato Nei temi E nel linguaggio Come nel secondo passo Che vi ha proposto Che ha anche ispirato L'opera di Ariosto Perché Leggere Dante E ho caricato un breve video Allora chiudiamo il giornale E apriamo la commedia Vi stupiete di quanto Nonostante i secoli trascorsi I temi della cronaca Del tempo di Dante Siano simili a quelli Del nostro tempo Certo cambiano gli scenari Ma la nostra essenza Di donne e uomini Resta uguale Soffriamo per amore Per un'amicizia dimenticata Per orgoglio Per le ingiustizie Per la perdita Di una persona cara Infine Ho caricato per voi Un breve video Che Spiega Dante In tre minuti Molto simpatico Il sommo poeta Il padre della lingua italiana Quante volte avete sentito Questi appellativi E vi siete chiesti Ma perché tanta esaltazione? Beh Sono pronto a rispondere A questa domanda Oggi parliamo Del più grande letterato italiano Oggi parliamo Di Dante Alighieri Dante Alighieri Nasce a Firenze Nel 1265 Rimane orfano Ancora bambino Ma riesce comunque A ricevere Un'adeguata istruzione Nel 1274 Incontra Beatrice Innamorandosene follemente Al punto da dedicarle Diverse delle sue opere E così Nel 1285 Dante finalmente Si sposa con Gemma Donati Già Niente Beatrice Tuttavia pochi anni dopo Nel 1290 La stessa Beatrice Muore Decisamente Non un grande inizio Inoltre questa perdita Affliggerà profondamente Dante Che però si aprirà A nuovi orizzonti Oltre a quelli letterali Lanciandosi Nella carriera politica In quegli anni Infatti Firenze era tormentata Dalle lotte interne Tra guelfi bianchi Che sostenevano L'indipendenza del comune E guelfi neri Che appoggiavano Le mire espansionistiche Del papato Dante si schierò Per l'indipendenza Con i bianchi Venendo eletto Priore Massima carica Della magistratura Fiorentina Nel 1300 E così Solo un anno più tardi I guelfi neri Si impadroniscono Di Firenze E condannano Dante All'esilio Accusandolo Ingiustamente Di aver venduto Pubblici uffici Ci credo Che poi questo Ti finisca a parlare D'inferno In ogni caso Dante risulterà Terribilmente scosso Dalla lontananza Dalla sua amata Firenze Inizierà a vagare Per le corti italiane E accolto come intellettuale È in questi anni Che inizia a scrivere La sua opera più famosa L'opera che ancora oggi Lo fa conoscere In tutto il mondo La Divina Commedia La Divina Commedia Racconta il viaggio Che Dante immagina di compiere Nei tre regni Dell'oltretomba Inferno Purgatorio E paradiso Tra il venerdì santo E la Pasqua Dell'anno 1300 Si tratta di un'opera allegorica Improntata su un profondo simbolismo È un'opera unica Nel suo genere E prima di tutto È doveroso capirne la struttura Infatti La Divina Commedia È legata interamente Alle cifre Uno e tre Questo perché Sono i numeri Che rappresentano Dio Che è uno E treno L'opera divisa Quindi in tre cantiche Ciascuna legata A uno dei tre regni Inferno Purgatorio E paradiso Tutte e tre le cantiche Sono composte da 33 canti Ciascun canto È costituito da terzine Di endecasillabi Cioè strofe di tre versi Ciascuno composto da 11 sillabe L'inferno presenta inoltre Un canto di introduzione Il canto 1 Che sommato agli altri 99 Dà il risultato perfetto Di 100 canti Non si può certo dire Che Dante non fosse uno Attento ai dettagli Ma Per oggi è tutto La mia presentazione Termina qui Spero che Vi sia piaciuto Grazie per l'attenzione